Ciao a tutti, in questo video andremo a parlare degli Export Button, ovvero una nuova funzionalità introdotta nella versione di Tableau 2020.1. Da questa versione, infatti, è stata aggiunta la possibilità di inserire un bottone che consente di esportare rapidamente una dashboard nel formato desiderato. Attualmente i formati disponibili sono PowerPoint, PDF oppure un'immagine. Andiamo a vedere nel dettaglio come funzionano questi Export Button. Apriamo Tableau e apriamo il Sample Workbook Superstore. Come possiamo vedere nella sezione Object in basso a sinistra, di questa nuova funzionalità Export, che è proprio la funzionalità che dovremo inserire per aggiungere gli Export Button. Per inserirla nella dashboard bisognerà soltanto trascinarla all'interno. Attualmente questo Export Button è stato programmato per esportare l'intera dashboard in un formato PDF. Naturalmente è possibile cambiare le impostazioni del bottone cliccando su More Option, Edit Button. Nella sezione Export To dovremo selezionare il formato in cui vogliamo esportare la nostra dashboard. Come detto in precedenza, possiamo scegliere tra immagine, PDF o PowerPoint. Selezioniamo PowerPoint. Dalla sezione Button Style invece possiamo decidere se inserire un Text Button o un Image Button. Se selezioniamo un Image Button dovremo andare a scegliere un'immagine che funzionerà dal nostro bottone. Nel nostro caso lasciamo Text Button. Nella sezione Format invece andremo a inserire un titolo e scegliamo anche uno sfondo diverso. Scegliamo colore rosso che ci ricorda un po' il logo di PowerPoint. Facciamo Apply e come vediamo di default l'Export Button avrà un testo che sarà Export To e il formato selezionato nel primo menu a tendina. Se vogliamo modificare questo testo basterà andare sotto Title e scrivere il nostro nuovo titolo. Possiamo eventualmente anche cambiare il font e ok. clicchiamo adesso sul bottone Export. Si aprirà una nuova finestra in cui dovremmo scegliere il percorso in cui salvare il nuovo file di PowerPoint e il nome. Apriamo il nuovo file salvato e come possiamo vedere è composto da due viste in cui la prima dove abbiamo il titolo e la data e l'ora di creazione del file, mentre la seconda vista sarà la dashboard che abbiamo esportato da Tableau. Un'ulteriore funzionalità degli Export Button si ha quando salviamo il nostro workbook su Tableau Server o Tableau Online. In questo caso salviamolo su Tableau Online, quindi Server, Publish Workbook. In Project dovremmo selezionare la cartella in cui vogliamo salvare il workbook, inserire il nome del workbook e abbiamo inoltre la possibilità di selezionare tutti o solo alcune delle viste da pubblicare su Tableau Online. In questo caso pubblichiamo soltanto la dashboard Overview, che è la dashboard che contiene l'Export Button. Facciamo Publish e in questo momento il nostro workbook verrà salvato, pubblicato su Tableau Online. Apriamo la dashboard Overview e clicchiamo nuovamente sul tasto Export. Da Tableau Online o Tableau Server vi è questa nuova finestra, che ha un'ulteriore funzionalità. Infatti da qui possiamo decidere se esportare l'intera vista, se esportare degli specifici fogli di questa dashboard oppure se esportare degli specifici fogli dall'intera cartella di lavoro. Selezioniamo fogli specifici da questa dashboard e da qui potremo selezionare tutti o solo alcuni dei fogli presenti nella dashboard. Decidiamo di salvare il foglio che contiene la mappa e il grafico Sales by Segment, questo in fondo a sinistra. scarica e in automatico avverrà il download del nuovo file PowerPoint. Lo apriamo e la prima vista è sempre il nome del file con la data e l'ora di creazione, mentre poi avremo una vista specifica per ogni foglio della dashboard. Infatti la seconda vista conterrà soltanto la mappa, mentre la terza ed ultima vista conterrà soltanto il grafico contenuto nel foglio Sales by Segment. Questo è tutto per quanto riguarda la nuova funzionalità degli Export Button di Tableau 2020.1.